Memorizza e segna i prezzi dei prodotti, in questo modo potrai approfittare delle occasioni o evitare brutte sorprese. Pianificare i menu della settimana è utile per evitare di fare acquisti superflui. L'ideale è iniziare ad acquistare cibi come frutto o verdura, occupano sempre molto spazio e il carrello si riempirà prima. È opportuno sempre fare attenzione al rapporto tra il prezzo e il peso del prodotto, non è sempre detto che quello che costa meno sia più conveniente. Solitamente sono i prodotti che costano meno rispetto ai marchi più noti, in realtà spesso sono realizzati dalle stesse case produttrici. Non abbiate paura di sperimentare nuovi prodotti, a volte i marchi nuovi costano meno e hanno comunque una buona qualità. Esistono alcune app utili a raccogliere informazioni e promozioni dei supermercati vicino a te. Alcuni cereali, zucchero, sale, spezie confezionati nei sacchetti possono essere acquistati a prezzi inferiori rispetto ad altri che hanno imballaggi più attraenti. I prodotti più freschi stanno sempre nella parte posteriore dello scaffale. Prodotto senza OGM o ricco di vitamine. Fai attenzione alle foto e alla descrizione del prodotto sulla confezione, perché spesso queste frasi hanno un buon effetto sulle vendite.